A dunisiani vedete che iniziamo questo video scavando perché oggi siamo finalmente in un nuovo video di esplorazione abbiamo trovato Oggi siamo in una miniera Assolutamente io e Gabri il mio amico Gabri qua molto cicciobello guardatelo là che cicciobello Allora praticamente a volte diciamo che su minecraft ci servono i materiali no Gabri tu sai bene che ci serve i materiali E noi ci stiamo preparando per trovare il drago del Insomma il drago dell'entla sto per dire il drago del nether no Ma mi sono leggermente confuso C'è il nether c'è il wither Esatto è che quello è un'altra cosa che affronteremo Il drago dell'end lo affronteremo in Prima o poi si Gabri scava dritto creatura Esattamente perché qua non ci Allora dunisiani abbiamo scavato qua Stiamo ridendo perché io sono deficiente sto facendo un casino dopo l'altro Perché qua in questo server ci sono anche altre persone no E sto scrivendo cose a caso nella chat per sbaglio no Cioè vabbè ok comunque non importa Qua c'è uno creeper Ok rompi rompi tanto è lontano Che schifo il ragno A meno che tu non voglia fare una farm di spawner Eh vabbè niente Vabbè ormai Esatto ormai Allora Comunque se avete visto che stavo guardando là è perché c'erano C'erano strani rumori Io spero che non si sentano nel video Mannaggia il piffero volante Comunque qua è pieno di ragnatele non è possibile Ok eccoci qua dunisiani ad un altro taglio Eccoci qua allora praticamente Stiamo facendo un sacco di fatica comunque Oh porca miseria Stiamo attenti perché qua Non mi è successo niente Eh tu hai l'armatura potentissima Eh sì esatto L'armatura in Uncended Breeze Eh sì l'ha fatto Però ho solo la chest plate Non ho gli altri pezzi Vabbè vabbè Sicuramente arriverai a farli Gabri Io purtroppo ancora devo farla Perché l'altra l'ho finita tutta quanta L'altra armatura Quindi devo rifarla completamente Perché avevo un'armatura in Uncended Breeze Come avete visto da un altro video Esatto Però purtroppo è finita Ciao Gabri Pensavo che ti fossi perso Comunque porca miseria Sono buissime queste caverne Tu prendi i materiali Perché ci servono mi raccomando E saprei come saranno Quelle della 1.17 È vero Le caverne della 1.17 Saranno spettacolari Duniziani Aspettatevi Anche Come si dice Hardcore Video hardcore Su questo canale Molto belli In 1.17 Con le caverne nuove Chi ti ha detto di andare avanti Me lo dici figlio Eh Ok perfetto Ora sarà È molto meglio così Oh Che bello Non vedere niente però eh Ho sentito un rumore strano Forse è il rumore classico Delle Mineshaft Vabbè Esatto vero Forse sono io paranoico E qua c'è un altro bivio Mannaggia Al piffero Mannaggia Duniziani Eccoci qua Allora Praticamente Adesso Allora È successo un po' un casino Sul cerebro vanilla Sul quale potete entrare anche voi C'era uno che ha fatto un po' di Di cavolate Ha griffato un po' in giro Poi vabbè Noi abbiamo tutti i plugin Del reload Sì ma Tranquilli Cioè nel senso Qualcuno ci vuole fare Un torto Ma non è Non ci fa niente in realtà Perché Abbiamo Abbiamo già preso Tutte le protezioni Eh esatto Sì Abbiamo tutte le protezioni Quindi vabbè Comunque se volete entrare anche voi sul server vanilla Potete entrare chiaramente Potete entrare dal link discord in descrizione Ce lo dite là E noi vi facciamo entrare Vi aggiungiamo Esatto Però ovviamente dovete avere minecraft premium dal pc Esatto È questo praticamente Gabri allora praticamente qua Dobbiamo esplorare un attimo la caverna Questa qua Che è un canyon praticamente Molto bello Oh caspita E niente Sono caduto Sono imbecille Sono deficiente Duniziani Voi sapete Sì 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 Voi sapete bene che Dunizia a volte è un imbecille Eh quindi Oh caspita No Gabri Metti immediatamente una torcia Dai che rompi palle Sti qua Ma dio san No duniziani Allora aboliamo i ragni da minecraft Aboliamoli Specialmente quelli velenosi Sì Che non Allora non servono a niente È solo a dar fastidio Non fanno danno Danno fastidio Ecco cosa fanno Fanno pic Puc Pac Poi fanno quei suoni odiosi C'è un altro Ancora Ancora Duniziani guardate che Duniz Impazzisce Impazzisce Non è possibile qua Non si può Ma non si può Cioè Cosa vuole questo scheletro Tu cosa vuoi Ma è pieno di mostri Esatto In tutto ciò non abbiamo ancora trovato Esatto Andiamo da questa parte In tutto ciò non abbiamo Ancora trovato nessun diamante Però siamo a livello 27 Eh in effetti non possiamo trovare diamanti qua Però abbiamo trovato dell'oro Questo è mo Oddio Porca pizzola 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 No stiamo scherzando Vero Ma poi perché ho messo il legno Ma è possibile Ma poi non prende fuoco Eh infatti Quindi è meglio Vabbè niente Questo ora ho capito che non lo prendo Non lo prendiamo Duniziani È meglio così Fidatevi di me Ah c'è l'amico del C'è l'amico insomma Diciamo Il figlio del Del signor Zomboide Che è appena morto Sì 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 Lui era il figlio Guarda che lui gli dava le bastonate Al figlio Eh infatti Aveva ragione Proprio permaloso ed antipatico Permaloso Vabbè Perché permaloso non ho capito Vabbè Vabbè Si fa per dire Questa è normale Ok almeno questa è normale Ma comunque dà fastidio Ah ciao Scheletro Come va eh Scheletri Ah questi qua si amavano nella caverna Eh Questi qua A volte no Eh Come mai si ammazzano da soli Ah eh sì Perché uno si spara Eh Quindi l'altro si arrabbia tipo troppo Dice ma come cospite Li permetti di uccidermi Oh Di lanciarmi una freccia nel sedere E quindi poi dopo prendono Eh sì È così la storia dei Ah ecco Capisco Cosa hai fatto Ah scusa 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 Ecco Forse sarà meglio così Eh Fai bene Comunque qua non c'è niente Hai fatti Ah Fai prima te Ecco Sarà meglio Eh dunisiani bisogna far così Con queste persone qua Eh Con queste Luridi Eeeh Cosa Adesso lo banno Banno pure lui È come se avessi griffato il server Spacca un blocco Come Spacca un blocco qua Sì 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 Cosa hai fatto Hai griffato il server No Ah come si permetti Hai messo un blocco Che non è quello No dunisiani Questa cosa Assolutamente No la pietra Scrivetemi La punizione per Gabri Perché non è possibile No Assolutamente Somministrate una punizione divine Sono bravo Sei davanti a me Come ti permetti Ah Ah ecco Sarà meglio Comunque qua non stiamo trovando Un beato Cepporino di niente Eh sì E comunque c'è sto fumo qua Che Si alza Si avanza Si Una roba pazzurda Veramente Che fastidio Eh fatti Buu Buu Puzza Questo fumo Che è il fumo Che viene dallo zombie Ma perché sto balbettando Ops Vabbè Prendi L'oro Prendi l'oro Sì sì vai Prendi 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 l'oro Sì prendi Oh bravo Eh è finito Non ce l'ho più Oh ok ok Perfetto Hai preso l'oro Giusto Sì sì ho preso Ho preso Allora dammi le torce Perché io le ho finite Grazie mille Gabri Allora Dimmi dove andano No scherzo Ma qua non c'è niente Ok Duniziani Forse sarà Ma qua non c'eravamo già passati Eh sì guarda quante Ciao amici Come va Hai visto dove è volato quel creeper Allora Prendi l'oro Prendi l'oro Prendi l'oro Prendi l'oro Duniziani Guarda ma Prendilo bene No no non hai preso Non hai preso Non hai preso Non riesci a prenderlo Eh scusami eh No che ho metà vita Eh allora mangia Scusa Io non ti ho fatto niente Sei tu che senti queste cose strane Ah qua c'è un ragno Questo è Era Sì 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 Ma lui era il mio amico di infanzia sai Chi è stato Ah capisco Chi è stato Uno scheletro Come si permette Ma hai fatto Ah mamma mia questi scheletri qua Che veramente a volte Ah qua c'è uno spawner Santa Marianna delle rose Porca misera Qua sopra Qua sopra Ho visto tutto Gabriel Ho visto tutto I miei occhi Da persona occhiuta Ho visto tutto Allora prima di tutto Togliamo questa cosa Poi porca misera Spacco lo spawner E lo denuncio proprio Questo spawner Sì 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 Si vanno denunciati Chi è stato Come si permette Madonna ma No ragazzi Quanti ce ne sono Cioè non è Eh mi spiace Non è stata colpa mia È stata colpa del ragno Comunque Duniziani Si è sentiti a volte Dei suoni E assolutamente normali Non provengono Ma da me Ma piuttosto Da un Da una certa persona Esatto Bravo bravo Gabriel Mi hai letto nel pensiero Guarda Comunque qua non c'è niente Giusto Assolutamente niente E noi cosa stiamo facendo A scavarle Ragnatele Probabilmente Probabilmente Ancora E comunque hai fatto bene A cadere Ricadi di nuovo Perché Ma dobbiamo andare Ottimo che riferda Attento che poi arriva Fede e ci scurregge in faccia No Io te lo dico Sì 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 Ma a Dennis Lo prendiamo il ferro Sì 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 Guarda che quello ci serve Per l'ender dragon Guarda che il ferro Sì 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 I blocchi di ferro In faccia Proprio È una tattica Belle Ah ma sei qui No Dunisiani Perché Con queste persone Con me Allora cosa fai Ragno schifoso Cosa fai Cosa Dunisiani Spacco tutto Mannaggia alla miseria Spacco tutto Sì Adesso spacco tutto Basta No perché Vado in creativa E prendo la La tnt E griffo il mio stesso server Sì No L'isola È molto bello È molto bello In effetti In effetti è molto bello Adesso andiamo a casa Oh creature Ah dunisiani Siamo arrivati nel nostro bellissimo villaggio Guardate Sì 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 Abbiamo camminato in lungo In laro e questa pioggia Non se ne vuole andare Comunque guardate che bel villaggio che abbiamo Cioè non ci siamo ancora soffermati A guardare il nostro bellissimo villaggio E fra l'altro Il tizio che ci aveva griffato È stato proprio Quella fontana Ma quella fontana a me Sembra ancora intatta Poi non so Sì sì Infatti è intatta Meno male Perché noi abbiamo i plug-in Non come alcuni Comunque questa è la casa di Gabri Guardate che bella Che è molto bravo Bella Sì 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 Guardate Ci ho messo tipo 6 ore a farla Vabbè però è uscita bene Ne va alza la pena Gabri Eh sì Poi qua è ancora vuotissimo Eh lo so Non ho ancora avuto Cioè non so cosa metterci Non sai Eh sì è vero Ma C'è anche di sotto Anche di sotto Oh porca miseria Ah è vero che c'è anche la parte di sotto Ma i duniani l'avevano già vista La parte di sotto Mi pare Ma non tutta Ah però c'era la vecchia casa Esattamente Quindi adesso guardate Guardate che bella la casa di Gabri Cioè porca miseria Complimenti Gabri Molto bella Sì Poi qua voleva fare le fornaci Però ancora non ha fatto E questa è la zona del neder E delle pozioni Le pozioni Porca miseria Devo dire che Sta uscendo davvero bene Questo mondo L'unica mia casa Cioè l'unica casa Che fa cagare è la mia Perché non ho il tempo di costruire Però vabbè La rifarò Una volta che avrò tempo Tranquilli che Dui ci pensa Dunisi Mi farebbe molto piacere Che ero mio amico Gabri Les 06 Foca grassa E altre cose strane Non mi ignori che ti do Poi altre cose da farvi vedere Dunisiani A parte quei tentacoli Comunque quei tentacoli Non ce n'è più Non abbiamo più notizie Di quei tentacoli Di quei tentacoli Poi sono apparsi Pure su minecraft Sulla serie maledetta Di minecraft Esatto Esatto Pure là sono apparsi E Qua non Boh Cioè Non sta succedendo niente Boh Poi il neder Poi il neder è molto bello Devo dire Però non ci andiamo Meglio di no Eh no Infatti Poi tra Tra un po' Cioè non so quanto Andremo ad ammazzare il drago Esatto Esatto Questo sarà Il nostro prossimo obiettivo Di questa serie Uccideremo il drago In un video Chiaramente Perché E poi finalmente Avremo anche l'elitra Finalmente Esatto Che bello L'elitra Possiamo volare in giro Sì Volando e svolazzando Così proprio Vabbè denisiani Spero che questo video Di esplorazione Di preparazione Per l'ender dragon Vi sia piaciuto Poi cosomai Non so Vi farò una live Perché abbiamo anche Un altro progetto in mente Per questa serie Che consiste Nell'andare Proprio Nel trasferirsi Di un villaggio In un altro villaggio E costruire Un castello Vabbè Vedrete Vedrete Non vi spoilerò niente E quindi Ah guardate Ha smesso Eh ha smesso Proprio perché Per celebrare Questa Questo fine video E quindi niente Lasciate like Iscrivetevi al canale Scrivete Gabri 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 Barbie Gabri Barbie Gabri Barbie Gabri Barbie La bambola Barbie No in realtà Sono cartoni Vabbè Non so molto Di cartoni Barbie Vabbè Comunque Eh beh Meno male Quindi Dunisiani No vabbè Dico più che altro Sono Molto belli Io non li ho mai visti Ma immagino Siamo molto belli Comunque Chiara li ha visti Anche Angelo Molto belli Angelo che si guarda le barbie Non c'è niente di male Ognuno guarda Quello che gli piace E giustamente È questo Quindi quindi Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao